E allora dite un po' la bandiera. Porta Italia, fino a domenica la bandiera sta qua, è portato fortuna ieri questa bandiera. Questa è stata la bandiera del mio trionco in Albania, ai campionati europei. E campionati europei di cosa? Di taglio. Di taglio. Ma la mettiamo qua e porto fortuna all'Italia, campionati europei di calcio. Di calcio, quindi lo scultore... Di fiamma Italia, verde e speranza stamattina le macchie. Le macchie sono tutte e due, verde e speranza, forza Italia. A lei, lo scultore... Però pure, voglio dire una cosa, domenica pure se vinciamo e festeggiamo, cerchiamo di non distruggere la città. E qua hanno montato senti nuovi, piante nuove. Stamattina già stava tutto rotto. Quindi ieri c'è stata... Eh, troppa euforia, calma calma. Anni a me fa stagione che tronco e che bandiera, no? E rompa il rompo. Eh, ma è schiucci fili come città, no? Eh, certo, certo, certo. Anni a me fa i vandali. I vandali, no, no. Quindi... Ma voi non serva niente. Consigli per il tifo? Votiamoci questa finale. Domenica diciamo che in Italia... Oggi che... Cioè, domenica c'è la finale. Domenica c'è la finale. Domenica sera. Finale come? Italia? Italia speriamo... No, dobbiamo vedere. O D'Animarco, O'Inghilterra. Però speriamo Inghilterra perché... Gli inglesi siamo avanti. Eh, eh. Quindi già siamo in finale, eh? Noi già siamo in finale. Speriamo... O Inghilterra, o D'Animarco. Poi domenica c'è pure Pasquale qua. Eh. Che organizza... Che organizza tutto qua fuori. Domenica che organizza Pasquale? Veniamo tutti da Pasquale. Domenica a vedere tutti la partita. Dove? Qua fuori. Qua fuori. Ci sta uno schermo gigante. Il video, sì. Ci mettiamo io alla televisione, il video, con panini, taglieri... Bandiere. Calice di vino. Trombe. Tutti Forza Italia. Tutti Forza Italia. Forza Italia. Quindi una finale da fuoco? Da fuoco, da fuoco. Però solo fuoco. Solo fuoco. Non facciamo i vandali, solo fuoco. E quindi senza vandalismo. Senza vandalismo, bello tranquilli. E sempre Forza Italia. Forza Italia. Vai.